ciao a tutti oggi prepareremo il caffè scegherato il tempo di preparazione della ricetta è di tre minuti circa ingredienti sono ghiaccio in cubetti zucchero di canna caffè freddo amaro diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i cubetti di ghiaccio chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 10 aggiungiamo lo zucchero di canna e il caffè amaro che deve essere molto freddo chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 7 il caffè scegherato è pronto serviamolo subito in dei bicchieri caffè scegherato può essere servito con una spolverata di cacao grazie e alla prossima ricetta ciao 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 ciao